Che ti devi... la diretta, il bello della diretta, che ti devi dedicare? Ma fai appiccicare? C'è una storia vecchia dietro che... Ma fai appiccicare? Amore, però dopo me la devi dedicare pure a me. Stiamo sempre nel camerino e ragazzi... Caro, dopo me la dedichi pure a me, mi fai appiccicare. Tutto aperto? Eh certo. Lui è Gianni. Sì, c'è la moglie. Eh, ti piace un flash, diciamo l'unità. Certo, una foto, prego, vai, vai. Siamo pronti per esibirsi, signora, la foto. Ecco, ecco qua. Ma io ce l'ha già fatto? Io. Ah, ecco qua. Vai, vai, vai. È la faccia.